Georges Mathieu, action painting, azione, vitalità, forza, vigore, unione di gesto, unione di colore, delle sciabolate da spadaccino perché è francese, oppure da samurai visto il suo collegamento con il Giappone. Tutto questo è l'azione di questo grande pittore francese che ha rappresentato nell'arte moderna un esempio e un'evoluzione per un'arte non statica, un'arte non viva, un'arte che deve dire e deve dare dei messaggi soprattutto istintivi e psicologici. Benvenuti nel mondo di Georges Mathieu. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.